Ecco, Alain è un grande ricercatore Anche lo si nota dal fatto che non ha fatto un assemblaggio, cioè ha messo insieme tot, diciamo ingredienti così a caso Lei conosce molto bene anche la medicina ayurvedica, quella orientale You know also the ayurvedic medicine, you didn't just put things together E' per questo che lei ha deciso di fare due tipi diversi di prodotti Per la mattina e uno per la sera, uno in e uno young Uno per dare energia e l'altro per dare rilassazione Non ho niente da dire, lei sa È fantastico No, come mai? La mattina ti dà energia, ti attiva il corpo Si, quindi molta vitamina C, limone italiano, siciliano, biologico Per bruciare i grassi freschi, i grassi giovani, quelli che hai appena messo nel corpo, magari la cena prima E la pomeriggio invece è l'opposto, quindi ti rilassa il corpo E per bruciare il grasso invece più vecchio, quindi lavorare sulla parte più consolidata L'adipe è quello che non ci molla, quello affezionato E ti fa anche dormire bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti